La Mercedes CLA 45 AMG è il completamento verso l'alto della gamma della nuova berlina compatta, già sportiva di natura, ma addirittura esagerata in questa versione da 360 CV e contrazione integrale. La base di partenza è, anche in questo caso, la classe A, per la precisione la A45 AMG, che utilizza la stessa meccanica che comprende il motore a 4 cilindri più potente al mondo, la trazione integrale AMG 4 Matic e il cambio automatico doppia frizione AMG Speed Shift DCT a 7 marce. Con una velocità massima di 250 orari e uno scatto da 0 a 100 in 4 secondi e 6, la CLA 45 AMG risponde già alla normativa Euro 6. Come la sorella sportiva a due volumi, anche la CLA 45 AMG si differenzia dal resto della gamma per i dettagli estetici tipici della AMG, come la doppia lama della calandra, il paraurti anteriore maggiorato e ampliato nelle prese d'aria, oltre alle scritte Turbo AMG sui passaruota anteriori e ai fari Bixen un di serie. I quattro terminali di scarico quadrati ai lati del grande estrattore di coda e i cerchi in lega neri da 18 pollici completano infine il grintoso aspetto di questo bolide in forma di berlino. All'interno i sedili sportivi sono rivestiti in pelle artico e microfibra dinamica con cuciture rosse che fanno il paio con le cinture di sicurezza rosse e i battitacco AMG. Le finiture in alluminio spazzolato per il pannello strumenti e le bocchette da ereazione possono essere personalizzate con numerose opzioni, inserti in fibra di carbonio, tappetini specifici, volante sportivo e sedili performance. Allo stesso modo gli esterni possono essere modificati con i gusci degli specchi e altre parti in fibra di carbonio, cerchi da 19 pollici e le sospensioni sportive. Il motore è il neonato 2 litri turbo da 360 cavalli della famiglia Blue Direct, un quattro cilindri a iniezione multipla, basamento in alluminio, pistoni e albero a cam forgiati e il sistema Eco Start Stop. A tutto questo si aggiunge il turbo compressore Twin Scroll che arriva a 1,8 bar di sovrappressione e un sistema di scarico AMG con valvole da controllo automatico che ottimizzano flussi e sonorità della marmitta. Per scaricare la potenza a terra non poteva mancare la nuova versione della trazione integrale variabile 4MATIC AMGATE, composta da una compatta Power Take Off Unit che trasmette la potenza alle ruote posteriori, integrata nel cambio anche per la lubrificazione. Un albero di trasmissione in due parti e una frizione a lamelle a comando elettroidraulico inoltre è montata in blocco con il differenziale posteriore e trasmette il moto al retrotreno. Non appena si verifica un pattinamento sull'asse anteriore, la frizione a lamelle lo rileva e con una pompa idraulica sempre attiva comprime il pacco di lamelle per trasferire la coppia motrice verso le ruote posteriori. In condizioni di guida normali la CLA45 AMGATE viaggia a trazione anteriore per avere la massima efficienza, mentre in caso di necessità la trazione integrale 4MATIC AMGATE ripartisce la coppia motrice tra asse anteriore e posteriore in maniera variabile fino ad un rapporto 50-50. Anche il cambio sportivo a 7 marce è un doppia frizione che deriva dall'esperienza della SLS AMGATE dotato come di 3 programmi di marcia, doppietta automatica e funziona Ray Start per le partenze veloci.